John Borno ragazzi e buongiorno anche perché questo video lo vedrete alle 7 Ehi raga, Sarri ha salvato il culo, la panchina E praticamente ha rigirato tutta la situazione in un batter d'occhio Ho il singhiozzo, ma ora io inizio il video e ho il singhiozzo Ho il singhiozzo Sarri, ho buttato tutto per terra Sarri ragazzi si tiene in piedi, mangia due punti a Tottenham e ad Arsenal E si avvicina alla zona Champions Tra l'altro raga, parliamoci chiaro, questa partita praticamente l'ha vinta il Napoli Io non me lo sarei mai aspettato Higuain è primo gol, Giorginio è secondo gol In panchina, Maurizio Sarri È stato il Napoli style Tra l'altro sia Higuain che Giorginio fanno veramente due pezze Bene, 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 bene Non gioca bene il Chelsea Non rivediamo nel Chelsea di Sarri il Napoli di Sarri Però in Premier League, a mio modo di vedere, è molto più difficile creare gioco Rispetto a quello che puoi fare in Italia Perché magari in Premier League c'è molta più tecnica E poi non ti lasciano giocare così facilmente Alzano il baricentro, vanno a cercare la vittoria Tu vai a giocare in casa del Fulham che è penultimo in classifica E se il Chelsea il Fulham vuole vincere Se il Napoli va a giocare in casa del Bologna Il Bologna si chiude Ti fa il cadenaccio Dico Bologna avrei voluto dire Chieva, avrei voluto dire Empoli Occhi per loro, Frosinone eccetera eccetera Quindi il discorso cambia Va detto anche che con il Napoli ci ha messo un po' di ingranare Quindi ora aspettiamo un attimo Magari se gli verrà dato più tempo Se gli dovessero dare più tempo Probabilmente il Napoli riuscirebbe Il Chelsea di Sarri riuscirebbe comunque ad ingranare Torna Kepa dopo essere stato messo fuori per il casino Che non era uscito Caballero eccetera Torna Kepa prima spapera pazzescamente Quasi se la butta dentro da solo E poi comunque fa quelle due tre parate plastiche importanti Che salvano la faccia e anche un po' il culo al Chelsea Per quanto riguarda il Fulham sinceramente mi dispiace molto Perché è una squadra che a mio modo di vedere non merita di essere dove sta Cioè loro stanno a meno dieci dalla salvezza Sono praticamente in Serie B Devono fare un miracolo per non ritrocedere in Championship Eppure al di là di questo Fanno sempre ottime prestazioni Anche oggi con il Chelsea hanno fatto una buonissima gara Addirittura meritavano il pareggio Alla fine sono già tanto tanto così da pareggiarla Il Chelsea tra l'altro non ruba solamente due punti a Tottenham Ad Arsenal ne ruba due anche al Liverpool Che è lontanissima e che quindi in questo momento Quasi sarebbe meglio non calcolarlo Però pareggia contro l'Everton nel derby Non ne ho parlato tra l'altro Non sono riuscito perché sto weekend c'erano tantissime partite Non ho parlato nemmeno dello United Che all'ultimo secondo tra l'altro se mangia pure rigore Vince con il Southampton per 3-2 Regà la classifica Manchester City 71 Che quindi supera il Liverpool Che rimane a 70 Anzi che va a 70 dopo il pareggio Contro l'Everton Quindi Liverpool 70 City 71 Terza in classifica Il Tottenham Ha 61 punti E poi c'è lo United A 58 Perché dico c'è lo United A 58 Perché subito dietro Arsenal 57 Chelsea 56 Quindi lo United A 3 punti dal Tottenham Ma soprattutto lo United Che è quarto E ha più 1 Dalla quinta Che è l'Arsenal E ha più 2 Dal Chelsea Che è la sesta E quindi attenzione Tra le altre settimane prossima Ci sarà Liverpool Barley Ci sarà Chelsea Wals Ci sarà City Watford Ci sarà Southampton Tottenham E soprattutto ci sarà Arsenal Manchester United Che l'Arsenal Se vince Supera lo United Però attenzione Perché se pareggiano E il Chelsea Dovesse vincere Aggancerebbe appunto Lo United Al quarto posto Quindi ragazzi In Champions Cioè in Premier Per la Champions È tutto aperto Fatemi sapere La vostra In un commento Qua sotto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Se vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un mi piace In caso non tenete come sempre Un dislike Ma fatemi sapere il perché Con un commento qua sotto Grazie Per aver visto questo video Seguitemi su Instagram Se ancora non lo fate Simone Siqual Trattino Basso Official Moshalala E noi come sempre Ci vediamo ad un prossimo video